Il personaggio di cui devo parlare oggi è un personaggio che per descriverlo devo fare un elenco. Ed è un regista, uno sceneggiatore, un attore, un soggettista, un pittore, un cantante, un musicista, uno scenografo, un ingegnere del suono, un attore, e quindi chi più ne ha più ne metta. Ed è anche un autore che ha due César, che sarebbero gli Oscar francesi praticamente, due palme d'oro, un leone d'oro, un Oscar alla carriera e tre nomination agli Oscar. Mi riferisco a quel personaggio straordinario che è David Lynch. David Lynch è il prestigiatore dell'assurdo, è qualcuno che è capace di entrare nei meandri dell'orrore, scavarvi dentro e trovare fantastici coriandoli di paura, di terrore, di follia, di angoscia. È un autore capace di ribaltare la realtà, è un olisse delle realtà possibili. E' come se ogni volta tu sali sulla sua nave e non sai mai dove vai a parare. Quelle che ti sembrano sirene in realtà sono dei mostri, e quelli che credi dei mostri in realtà sono delle splendide sirene che ti affascinano e anche se hanno le unghie, con queste unghie invece di graffiarti ti accarezzano e ti deliziano. e se invece hanno i capelli belli, fluenti e lunghi e ti avvolgono, in realtà sono serpenti. Tu con David Lynch non sai mai qual è la realtà che ti presenta né dove vuole condurti ogni volta che ti prende per mano e ti porta in una delle sue storie. Questo per dire quanto posso apprezzare questo autore e quanto mi affascina ogni volta seguirlo nei meandri della sua follia, del suo orrore, nei meandri di quella che è la sua invenzione, queste possibilità di piani parallele di realtà che poi in realtà talvolta non danno neanche spiegazioni, talvolta non specificano neanche dove ti portano, ti trovi improvvisamente dopo alcune peripezie in un luogo che magari non significa niente. Questo aspetto, soprattutto questo fatto di essere un prestigiatore più che passionale secondo me, più freddo, più alchemico, più studiato, non per questo meno valido o straordinario, però sento un'affinità minore nei suoi confronti. Questo è dovuto anche al fatto che probabilmente lui rilevò il progetto di Dune, il famoso romanzo di fantascienza di Frank Herbert, un ciclo completo che è uno dei più grandi e più importanti racconti di fantascienza, premio Hugo, premio Nebula, cioè gli Oscar della fantascienza, che doveva fare Alessandro Jodorowsky. Alessandro aveva preparato un progetto di grande suggestione, me ne parlò, e quindi con Mebius, che poi sarà l'ispiratore delle scenografie di Alien, quindi il grandissimo fumettista francese, con addirittura Orson Welles nel ruolo dell'imperatore cattivo, con Salvatore Dalì che aveva un altro ruolo molto importante, quindi una storia fantasmatica, straordinaria, che poi Alessandro non fece più e lui rilevò questo progetto. Questo fatto non mi è sembrato piacevole, però questo non ha impedito la mia stima nei suoi confronti. Ho apprezzato tutti i suoi film seguenti, Velluto blu, Cuore selvaggio, Strade perdute, Mulholland Drive, ho apprezzato Enland Empire, tuttavia mi è rimasta sempre questo senso di freddezza nei suoi confronti, come se la sua abilità invece di commuovermi mi stupisce, ma non mi attira, non mi travolge, non mi appassiona, come succede con altri autori invece, come mi è successo con Kubrick, come è successo con Jodorowsky, come mi è successo con molti altri, come mi succede con Christopher Nolan. Ecco, lui mi appassiona di meno, ma non per questo non gli riconosco dei grandi meriti, soprattutto come visionarità capace straordinaria di travolgere la realtà e di dargli un aspetto completamente differente. Ora, mi rimane però sempre qualcosa di macabro dal momento del suo primo film, che era un film che parlava di un feto abnorme che cresceva come un incubo in un piccolo appartamento con un padre disperato in una situazione grigia, oscura. Da questo primo film, che in realtà poi è un film sotto certi aspetti con delle forze visionarie fortissime, pensate che era uno dei preferiti di Stanley Kubrick per capirci come potenza visionaria, però quest'aurea più che gotica, macabra, questa pesantezza, questo mescolare nell'orrore non mi attira particolarmente. Ma faccio tutto questo discorso per dire che invece ho apprezzato, appassionato, mi sono commosso, mi sono veramente riconciliato con David Lynch, con l'immagine di David Lynch, con questo che in realtà è il suo secondo film e che ho portato sempre nel cuore. Questo secondo film di cui voglio parlare oggi dopo questa premessa è Elephant Man. Elephant Man nasce proprio da un progetto che paradossalmente e stranamente è un progetto prodotto da famoso, straordinario, incredibile comico Mel Brooks. Produce questo film, che è la cosa più lontana in realtà dalla filmografia di Mel Brooks. Tra l'altro ha lavorato anche insieme a Woody Allen per circa due anni come Gag Man, insieme erano i due Gag Man di una trasmissione televisiva. Quindi c'è questo umorismo ebraico, yiddish, forte, curioso, particolare, originale. Lui è l'autore tra l'altro di questo film delizioso che vi prego di vedere, non toccate le vecchiette, che è molto molto grazioso. È l'autore di Mezzogiorno e mezzo di fuoco, è l'autore straordinario di Frank Stey Jr., cioè in combutta con Gene Wilder che ha fatto alcuni dei film più dissagranti, più comici e più assurdi della storia del cinema. Quindi straordinario. Vi ricordo anche che Mel Brooks, quando ha ricevuto l'Oscar, siccome stava su una sede a rotelle perché aveva avuto un incidente, fece una scena esilarante la serata dell'Oscar perché dopo che annunciarono il suo nome nessuno si presentò e improvvisamente arrivò un pazzo su una sede a rotelle a velocità supersonica che ha scippato l'Oscar ed è scomparso. Un altro film che produsse Mel Brooks al di fuori della sua filmografia è La mosca di Cronenberg. Quindi, come vedete, c'è da una parte Mel Brooks comico, scatenato, suggestivo, ironico, però all'interno di questo personaggio, proprio come accade in tutti i comici che ho conosciuto e che in realtà sono profondamente tristi, c'è questo lato oscuro che è proprio dalla produzione di questi due film, La mosca ed Elephant Man. Tornando ad Elephant Man, chiaramente proprio perché per il successo di critica del film precedente, il giovane regista David Lynch viene scelto per fare questo film. Mel Brooks stesso decide che lo può fare perché Elephant Man è proprio la storia di un mostro. Ma, e questa è l'originalità e il valore di questo film, in realtà questo mostro, quest'uomo che si chiama Joseph Mary, che è veramente esistito, che è nato nel 1853 ed è morto nel 1890 in Inghilterra, in realtà quest'uomo mostruoso nella verità dei fatti è una delle persone più buone, più dolci, più tenere, più disperatamente buone, candide, mentre invece i mostri sono coloro che all'apparenza sembrano belli, ma in realtà, come ha detto altre volte, sono dei mostri dentro e, in questo caso del film, anche molto spesso fuori, soltanto che sono mostri il cui aspetto mostruoso è comune a tanti altri mostri e di conseguenza sembrano, fra parentesi, normali o perlomeno fra di loro si ritengono normali, per cui una persona che è diversa da loro o è più in alto e quindi, come tutti i vigliacchi e come tutti i deboli, la ammirano e la rispettano o, secondo il loro giudizio, è più in basso perché apparentemente è più deforme rispetto a loro e quindi la disprezzano, la deridano, la svillaneggiano, la malmenano, la provocano, li fanno di tutti i colori. In realtà il problema è che nessuno mai degli esseri umani, nessuno o perlomeno molto spesso, non guardiamo mai l'anima, non guardiamo mai che cosa c'è al di là dell'apparenza. Questa è la grande lezione del film, è in questa società vittoriana che è tutta apparenza, in cui il perbenismo nel 98% dei casi è soltanto apparenza, mentre dietro... Nella ronda vittoriana c'erano 80.000 prostitute, quelle censite, pensate a quelle non censite. I bambini venivano impiegati nei telai notte e giorno in ambienti malsani, cioè con i primi telai meccanici per cui con inquinamento, puzze, fume, vapore incredibili, venivano impiegati sempre i bambini perché venivano pagati di meno. Ricordate questo, questa è la realtà. Poi l'apparenza sono i raffinati gentiluoni, ma uno su 200-300 mila persone era il raffinato gentiluomo, uno su due 300 mila persone era il acuto e attento Sherlock Holmes o Oscar Wilde. Per il resto c'era questa massa borghese informe, ma fortunatamente in questa massa informe, in questa società così stratificata dove i ricchi sono santi, buoni, belli, raffinati, puliti ed educati, e tutto il resto è una società a piramide, quindi degradante. Nell'ultimo gradino c'è proprio Joseph Merrick, perché oltre ad essere povero, orfano, malato e disperato, è anche brutto. Quindi è veramente l'ultimo gradino della scala, un gradino che a giudizio della società contemporanea e molto spesso a giudizio di molte persone anche oggi, deve stare in fondo perché è segnato da Dio, deve stare in fondo perché è nato così, deve stare in fondo perché io che sono leggermente meno disgraziato di lui, mi sento forte proprio perché posso angariare lui. In questa situazione, fortunatamente nella realtà dei fatti, un medico del Royal London Hospital passando per la Victoria Station a Londra nel 1870 circa, che cosa gli accade? Gli accade di incontrare questo mostro che soffriva di un grave problema bronchiale e lui era un medico che già si imbatteva per avere l'anestesia in ospedale e per fare la disinfestazione e per fare l'antisepsi, cioè per curare e igienizzare gli strumenti e gli ambienti, chiaramente ostacolato dagli altri che non credevano all'esistenza dei microbi ancora. Pensate a questo medico valoroso che era stato in battaglia e che si era abbattuto anche per migliorare le condizioni dei soldati feriti, perché allora il soldato ferito era quasi un peso morto, cioè veniva curato apparentemente, ma con le bende che erano usate da altri per i nuovi feriti, la gente moriva di tifo perché l'acqua che bevevano non era un'acqua sterilizzata e quest'acqua non sterilizzata veniva usata per pulire le ferite. Quindi questo medico si imbatteva disperatamente per tutto questo. Quando passa alla Victoria Station e vede apparentemente questo mostro, sente e si rende conto che è malato e quasi di soppiatto lo porta in ospedale. In questo ospedale riesce a trattenerlo, riesce a convincere tutti di cularlo, di non inorredirsi di fronte alla sua mostruosità ma di esercitare nei suoi confronti una forma di solidarietà, di affetto, tale e tanto che persino la regina Vittoria si interessa a questo fatto e quindi elargisce addirittura all'ospedale una pensione per questo essere che per tutta il resto della sua piccola vita muore a 27-28 anni e può vivere in ospedale. Questo è il fatto reale e su questo fatto reale David Lynch ha fatto questa sceneggiatura e ha fatto questo film in cui i suoi difetti spariscono e rimangono soltanto i suoi pregi. Rimane soltanto questo coraggio di avvicinarsi all'orrore, ma c'è all'interno di questo una pietà, un'attenzione, un modo sia per far risaltare la mostruosità delle cosiddette persone normali, sia per far risaltare il candore, la bellezza, la poesia, la tenerezza di questo essere che in realtà da solo aveva imparato a leggere e che addirittura poi si esprimeva scrivendo persino poesie e facendo stupire tutta la società vittoriana dell'epoca. David Lynch per fare questo film si è avvalso con la perizia che aveva e anche con l'aiuto credo di Mel Brooks di alcuni collaboratori che sono stati assolutamente fondamentali. Freddie Francis che ha avuto due Oscar successivamente per la fotografia, quindi usa questo splendido bianco e nero per questa Londra cupa e incombente che è proprio la città dei mostri, dove ogni tanto c'è qualche barlume di luce dovuto proprio alle persone, c'è sempre qualche persona buona che riesce a illuminare questo ambiente orrendo, cupo, disperato, triste. Un altro collaboratore molto importante è Anne Coates che è la montatrice e che era Oscar per Lorenz d'Arabia e quindi con un'abilità straordinaria che crea un montaggio di questo film in cui ci sono dei momenti di angoscia e dei momenti di serenità come delle piccole oasi che però queste piccole oasi vengono immediatamente interrotte da un ritmo cupo, feroce, che di nuovo incombe sul personaggio e quindi incombe su noi che guardiamo il film. Un altro importante collaboratore è John Morris, ricordiamovi che è l'autore di Dirty Dancing, quindi è un musicista molto importante che sa accompagnare la scelta dei brani classici voluti da David Lynch con delle musiche originali e di grande suggestione. I protagonisti sono Anthony Hopkins che tutti conosceremo e che tutti ricorderete per Hannibal e Del silenzio degli innocenti e John Hurt che successivamente sarà Ken di Alien e soprattutto sarà colui che vende le bacchette magiche a Harry Potter in tre episodi di Harry Potter. Quindi un grande attore inglese, un grande attore scespiriano è famoso per la capacità istrionica di immedesimarsi nei personaggi. La malattia del povero Joseph Merrick oggi viene chiamata sindrome di proteo, c'erano soltanto 200 persone al mondo, l'hanno avuta da sempre. Questa malattia prende il nome da questa divinità greca, proteo che aveva la capacità di trasformarsi. Omer racconta che quando Menelao, tornando dalla guerra di Troia, si fermò su un'isola per avere da proteo una divinazione perché era famoso perché guardando l'acqua del mare decideva il futuro, lottò prima con un leone, poi con un leopardo, poi con un'aquila, poi con l'acqua stessa perché proteo si trasformava ogni volta in un essere diverso finché riuscì a bloccarlo e avere la divinazione. A proposito di Joseph Merrick e dell'aspetto fisico che la gente ha e per la quale può essere giudicato, l'aneddoto di oggi riguarda un fatto vero e un fatto importante che mi ha molto colpito. Ero stato invitato al Festival di Sydney per presentare il mio film. L'ospite d'onore era la grande attrice Sofia Loren, Sofia nazionale. Sofia arrivò bellissima, straordinaria, credo che avesse già 70 anni, ma lei arrivò splendida, veramente eccezionale. Rimanemmo tutti quanti stupiti dalla freschezza, dalla velocità, tre ore di conferenza stampa in inglese, in italiano, con citazioni in francese, fece ridere tutti, divertì tutti, quindi una cosa stupenda. La sera c'era la cena di gala e a questa cena di gala era una cena molto importante servita in uno dei locali più belli di Sydney. Pensate che ogni tavolo costava 20 mila euro, 20 mila dollari australiani, proprio perché la cena serviva per una gala di beneficenza. Quindi chiunque comprava questo tavolo faceva praticamente un'offerta e l'offerta era fatta ad un famoso ospedale per uschionati. Perché, questo io non lo sapevo, in Australia molto spesso, in passato spessissimo, e oggi, ancora oggi, siccome moltissime case e fattorie sono costruite in legno, è molto facile che si sviluppi un incendio e molto spesso in questi incendi rimangono imprigionati i bambini che rimassi soli in casa o per delle ragioni varie sono stessi delle volte ad appiccare il fuoco o per un cortocircuito o giocando con i fiammiferi o con la stufa. Per cui ci sono molti bambini sfigurati dagli incendi. La cena di gala serviva proprio per finanziare questo ospedale per i piccoli ustionati. L'ospite d'onore insieme a Sophia Loren era questa bambina di circa dieci anni che era già sfuggita a un incendio miracolosamente ed era stata curata ed era ricaduta in un altro incendio. Gli era accaduto di nuovo in un'altra casa in un altro incendio. Quindi una bambina particolarmente sfortunata che era stata deturpata dall'incendio e che si è presentata a questa cena, è venuta un momento, completamente fasciata. Sembrava una piccola mummia. A questo punto a tutti quanti è generato il cuore perché vedere questo piccolo essere che arriva timida e impaurita soltanto con gli occhioni che guardano tutti quanti noi in questo ambiente scintillante e pieno di luce. A questo punto ho avuto modo di apprezzare e di trovare di essere orgoglioso di Sophia Loren la quale Sophia Loren è andata incontro a questa bambina secchinata su di lei e davanti a tutti con il microfono e ha detto che la piccola si chiamava Sophie e si chiamava esattamente come lei. Mi ha detto mia piccola Sophia, io sono venuta qui per questa manifestazione ma soprattutto per te perché mi hanno mandato la tua storia e la tua fotografia e ti ho portato un regalo. Ha tirato fuori un piccolo scrigno e ha detto che qui metterai e l'ha consegnata alla bambina. Poi ha preso gli orecchini che aveva ai lobby delle sue orecchie, le ha tolti e ha detto che questi sono gli orecchini che io ti dono e che metterai quando sarai completamente guarita, quando i medici ti avranno rifatto bella che omeri, il giorno del tuo rilanciamento per il ballo dei tuoi 18 anni. Ricordati che te l'ha regalata Sophia Loren. Tutti abbiamo applaudito, commossi, la bambina ha preso questa piccola cosa e vi posso assicurare che al di là delle sue fasce che la coprivano i suoi occhi hanno scintillato forze di commozione, forze di emozione e questo fatto ha riempito la sala come di una grande luce. Grazie. Ah, un avviso importante. Il produttore di queste video recensioni, Mario D'Andrea, vorrebbe inserire queste video recensioni in Rotten Tomatoes, ma per farlo ha bisogno di aumentare il numero degli iscritti. Quindi, se vi interessa quello che dico, vi prego per favore di iscrivermi al canale e di cliccare sulla campanella. Grazie.